Ciao a tutti ragazzi qui da Dan e Simo Dan e Simo e oggi siamo, l'ho portato al mio negozio di fiducia dopo una scorciatura vai 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 andiamo 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 domani porto al negozio di giurore questo è il mio negozio di fiducia, questo lo vedete dove tutti gli incroci 8 volte a tutti gli incroci che vedevano ho visto il drogato che comando poverini non sembra quello di Giapponewood no, mi vuole pelato e abbiamo preso allora io ho preso per PSD ho pagato 30 euro ho dato dentro Assassin's Creed Liberation che valeva la pena per questo e l'ho pagato 15 euro perché questo è un capolavoro e lui ha preso Lego City Undercover per 3DS che sarebbe praticamente il prequel di quello che c'è su Wii U infatti in futuro io prenderò cioè dopo che lui avrà finito questo no vabbè lo può pure prendere no penso qui penso dopo perché almeno così si fa il mio soldi e dopo che lui ha finito questo prendo quello su Wii U che sarebbe che sarebbe il seguito di questo che questo è un prequel e si fa la recensione tutto insieme e ragazzi iniziamo l'unboxing inizio il mio inizio il tuo perché si vede bene con il video quando si mette si vede di merda perché fa l'esportazione secondo me dobbiamo carriarlo così aspetta si fa arrivare così infatti senza sigla senza sigla oggi bella giornata nuvoloso unboxing senza sigla vabbè allora apriamo partiamo sempre dal partiamo tutti e due si vai aspetta 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 no così no linguetta si 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 è spento tutto bene intanto qua leggiamo niente male questa regola sai che qua proprio il protagonista è la requita allora vediamo dentro che ci sta intanto lui sta ancora da bene ma ci stanno tutti sti ambaradami ma io ma che c'hanno messo qui libretti a volontà si beh lo sai oh castelvania non lo dovevi comprare si lo compro proprio cioè io faccio tutte le volte poi il libretto ah però com'è che si chiama come lo vuoi chiamare libretto poster di merda è il libretto di merda perché i libretti fanno veramente cagare e schedina del gioco allora intanto io ho aperto poi dopo farò vedere le goziti e le gozioni vai mettilo dentro mettilo dentro allora io ho aperto intanto il gioco si apre si leva la carta tranquillo la velocità proprio dei danni rispetto al al seno si il primo gioco lego del console ok slide cooper il ritorno di slide cooper io avevo detto questo non lo prendevo ovviamente esatto io sempre lo si però poi le cose le prendo ma diciamo che ne hai detto sia questo sia questo che One Piece e poi c'era un altro no aspetta qual'era oddio non prendo né slide cooper e Luigi non dove prendo lo Luigi l'ho detto ah Luigi slide cooper e One Piece l'ha presi tutti a tre l'ho presi no One Piece l'avevo detto l'ora che è bello e ovviamente prima caricherò la recensione di One Piece questo verrà dopo il caricamento della recensione vuoi anche non dirlo vabbè vabbè chi se ne freghi allora andiamo all'apertura aspetta attraverso le epoche di futuro in futuro lo sanno unisci no unisci dal magistrale Lavro slide cooper slide va indietro nel tempo per prendere un pugnale fatto non lo sapevo io no l'aveva visto nel demo non hai fatto il demo sì allora lo sa non me lo ricordavo vabbè insomma si apre e non c'è niente ovviamente ecco qui il libretto prendiamo il libretto si apre guarda la storia ora è contato i personaggi sarà sempre più bello dei libretti del 3ds diciamo che la Sony ha fatto il libretto virtuale a me veramente mi piace sì ma comodo dai perché non ammazza alberi in confronto a a cosa a Nintendo vabbè anche lei ammazza alberi per due voglietti però lei ha ridotto prima faceva manualoni così per One Piece manuale è grosso per One Piece ho capito ma per One Piece c'erano dei manualoni 12 n'era tutte le lingue erano grossi così quindi ragazzi questa è la scherina e niente l'unboxing è finito perché beh no è finito c'è un po' di gameplay ah un po' di gameplay di entrambi tutto insieme alziamo c'è un po' di gameplay alziamo e mettiamo subito i giochi e installiamo questo pare quello dei Simpsons è vero? questo questo qui serpe dei Simpsons pare ce la farai se volete aprire il vano disco della pessimità vano disco vano schedina della pessimità la mia mamma la vano disco porca puttana il fiber si è rotto allora accendiamo le scherine non posso rompere si è scaricato del tutto no ok no funziona però è quasi scarico allora io intanto sono ancora indietro nel tempo capito? si la sfondi la scherina sono proprio handicappato qui sta installando caricando caricando ho messo lo sfondo di Crash di One Piece e sti cazzi Crash e One Piece non glielo fai un cazzo allora Sly Cooper cazzo c'ho ancora la stessa di Liberation installata lo levo subito io non lo cancello perché lo riprenderò sicuramente quindi vuoi attivare lo street pass per le così di ok vabbè questo raffreddore di merda questo scemo non chiude lo spot no io li cancello ma c'è come è quello quale? quello là ah Sly Cooper Sly Cooper? ho visto tipo una bambina invece no questo Sly Cooper si avvia tanto io sto avviando il gioco come si italiano si avvia ecco qui guarda fiero Sly quello è avviato facciamo una nuova partita salvataggio un incorso e non si scarica il 3ds mentre vabbè però dovremmo filmare le due console ea ne ha per costruire le due ogetti eh saprò sì le due ogetti lì ah si possono potrì trovi diversi mattoncini sparsi ah io devo mettere la lingua facciamo vedere più che altro come si vede si infatti metto la lingua metto francese o tedesco oh cazzo le due lingue mi stanno sulle palle francese tedesco italiano ah c'è l'italiano il saluto di francese tedesco ecco l'ho buttato per gioco non mettevo tedesco se c'eravamo sicuro spesso no no metti solo giapponese perché devi ascenderemo l'audio perché è figo no si è sulla musica di quello spesso vediamo l'intro città beh ma quello non c'è il video ma questo è dura ma è giusto ed ecco il suo vice da ambito e qual è il tasto stacchio io avevo partito che stai facendo me che boom niente città vediamo un coglione nuovi dati salvati intanto devi andare avanti con calma ragazzi ritorniamo ai slidebook non ci posso vedere vivi la storia completa sì perché non capisco di presa che ci sia ma è un pezzo che ho fatto vedere a pari da voi vabbè ora faccio vedere il mio iudi dovrebbe avere i filmati iniziali in qualche modo lo sto facendo il caricamento sto facendo il caricamento sto facendo come ci metti così tanto a caricare ah ecco qua non tutte le ciambelle dai e dai e con la grafica devo dire che è abbastanza si è buona abbastanza buona buona oh ragazzi è caricato ah muoverci probabilmente dovrei iniziare dal principio mi chiamo slide slide come? e sono un laddo quanto è fiero ragazzi perché ha giocato i giochi su ps2 come me capirà ma che figata per un po' di mano spero uscita una collection hd di slide che si stava dicendo che si c'erano è infatti perché aveva un valutato la leventi su ps3 e e c'è se c'è la compro sicuro e lui ho lecce che se non mi vale apriera riprende penso che non ci possano sono andato in giro dentro sto gioco eh? sono andato più in giù e ma sono andato in giro guarda però col passare del tempo mi era tornato il pallino dei corti e sentivo il bisogno di assecondare vai più in giù no guarda più in giù detto vado male vado 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 potesse firmare questa macchina vado tocca alla missione per andare in giro con la città vado beh non è male ma non è male ma probabilmente in quello per uscire andare in giro invece no 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 si è sempre bloccato tutte si si devi completare una missione allora allora facciamo una missione vada ve lo faccio vedere tutto sennò vi spoiler anche se sentirete l'audio tg. noi facciamo vedere un po' le macchinette qua cittadino marcia stai qui intanto sto spiegando la storia di isla ebook il palco di asilo uomo ok tutto il muro adoro palazzo perchè mi vincito il tuo pacco ma come vuole come vuole uomo ben noi diciamo che possiamo chiudere se no qua beh si chiudiamo se no addio si vabbè abbiamo fatto il gameplay di Sly Hooper lo conoscete se avete giocato i gioie precedenti questo copio ho fatto vedere un po' si infatti questo era più che altro il gioco nuovo questo è più o meno il gameplay è come se c'è la c'è la vita la macchina se vado in tutto quello adesso no si non ho visto no ma muore anche Chase va bene ok eh dai si schianta è realistico quando non c'è nemmuori tipi games che finna affatto che finna affatto Chase ok vabbè che vediamo qui vabbè che abbiamo visto il video lo caricavamo senza sigla e niente perché così bello pulito lindo facciamo vedere i giochi dai super e le cosiddette quindi alla prossima alla prossima il prossimo unboxing che sarà sul sacrifice da parte mio eh infatti ma eh se lo fa lui prima lo carica lui se ce l'avrò in mente prima eh infatti lo carica lui e lo fa e lo fa lui ciao ciao oh come si stoppò di ah ma sono quelle linee vabbè va bene ciao a tutti ciao 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 ciao